Sono riprese le attività di ricerca per trovare Francesco Iacovelli, il trentenne di cui non si hanno più notizie dallo scorso 5 gennaio quando si è allontanato dalla propria abitazione di Casa Massima nel Barese a bordo della sua auto, rivenuta poi nel comune di San Nicola Arcella nel Cosentino. Vigili del fuoco e uomini del soccorso alpino, spiologico, hanno battuto un'area di circa 10 ettari di boschi e macchia mediterranea in un terreno molto impervio e bonificata parte di un canalone. Le ricerche continuano insieme ai carabinieri di Scalea e alle unità cinofile.